Si è concluso a Forchia il convegno di due giorni a cui hanno partecipato circa 1500 testimoni di Geova provenienti dalla Piana del Sele, dal Cilento e dal Vallo di Diano, dal tema La parola di Dio è utile per insegnare. Una caratteristica dei veri cristiani, come il programma ha evidenziato, è quella di lasciarsi guidare nella vita quotidiana dagli insegnamenti senza eguali contenuti nella Bibbia. Si è concentrata l'attenzione su diversi insegnamenti contenuti nelle Sacre Scritture che possono elevare notevolmente la vita di un cristiano sul piano fisico, emotivo, morale e spirituale. Sono state presentate diverse testimonianze che hanno confermato come vivere secondo i principi della parola di Dio ha migliorato notevolmente i rapporti familiari e con il prossimo. Il discorso pubblico, tenuto domenica dal tema Chi sta scrollando le nazioni e come, ha spiegato quale speranza hanno tutti i cristiani e quale provvedimento ha preso Dio per risolvere i problemi dell'intera umanità. Un momento culminante della manifestazione è stata la cerimonia del battesimo, dove i nuovi fedeli, dopo un istruttivo discorso, hanno simboleggiato la loro dedicazione a Dio con un'immersione completa in acqua. Tutti i presenti hanno mostrato vivo apprezzamento per l'istruzione spirituale ricevuta e per l'associazione cristiana goduta nei due giorni.